Mister, Arezzo-Fermana è una di quelle partite che hanno le sembianze della buccia di banana. Come fare per evitare i rischi che ci sono in questi casi? Considerarla una partita difficilissima, come abbiamo cercato di considerarla. Poi ci sono dati di fatto, basta prendere la partita precedente. Fermana meritava di vincere con la Sestri Levante ampiamente e ieri Sestri Levante ha dato tre gol al Gubbio. Basta questo per dire che il livello di difficoltà sarà la partita di domani. I numeri della Fermana non sono buoni, la posizione di classifica a sei giornate dalla fine è piuttosto complicata. Però è una squadra che cercherà di giocare il tutto per tutto, che ha anche cambiato modulo. Non so se l'ha vista in queste ultime partite, in cosa è cambiata rispetto a un mese fa? È cambiata, è cambiata. E' chiaro, ha detto, loro devono vincere. Nelle ultime sei giornate se non fanno un minimo quattro vittorie, sicché ragionano ancora maggiore della pererosità della gara. Sono ambiati, sono ambiati indubbiamente. Il nuovo allenatore, ma credo anche per forza. Devono andare a cercare la vittoria in tutte le maniere. Ripeto, questi Sestri Levante la meritavano ampiamente, ma ampiamente. È arrivata la primavera, l'Arezzo mi sembra che sta correndo, no? Amicia sta correndo anche bene, lo dicevamo domenica dopo la partita di Pineto. Quanto conterà la condizione atletica di qui alla fine per questo rush finale in vista dei play-off? È fondamentale, è sempre stata fondamentale. Come dicevamo anche l'anno scorso, no? Gli ampionati si vinca a marzo, marzo-aprile. Se ora stai bene puoi fare qualcosa, se stai male. Però a noi sembra che si stia abbastanza bene, via, diciamo così. E chiaro, Ministro, adesso che si gioca una volta alla settimana, se dobbiamo aspettarci comunque qualche rotazione nelle formazioni iniziali, oppure se adesso cambia un po' anche il suo metro di decisione per l'11 iniziale? È chiaro che non è come quando facevamo sabato, martedì, sabato. È ovvio che a distanza di sette giorni è tutto più sfumato. Però nel discorso si approvolge nell'ottia della considerazione che hai te di tutta la rosa. E questo allora va al di là anche dei sette giorni anonici. Se te hai considerazione anche di uno, per esempio, domenica non ha fatto nemmeno un minuto, ma per te è bravo, per te è un allenamento ha dimostrato, perché non deve andare? E chiedo, Ministro, visto che la squadra è cresciuta un po' in tutti i singoli dall'inizio dell'anno, quanto hanno influito le rotazioni o se invece è stato merito del lavoro quotidiano che la squadra ha svolto durante la settimana? Io credo che abbiano influito tutte e due le cose, perché il discorso delle rotazioni è l'importanza dell'allenamento, amici. Perché se l'allenamento dà un'intensità con 20 persone tutte coinvolte, cioè che più o meno hanno avuto tutti la loro gratificazione andando dentro, viene un livello dell'allenamento. Se vai a un 12-13 isolari e gli altri 6-7 sanno che non giocano, almeno che quelli del 12-13 non muoiano, è chiaro che il livello dell'allenamento non può essere per far migliorare. E conseguentemente migliori te come singolo. A proposito di miglioramenti, le chiedo se c'è un giovane che ha fatto i progressi maggiori da un punto di vista tecnico, tattico, o anche di personalità rispetto all'inizio dell'anno. Ce n'è più di uno. Mi sembrano quasi tutti, perché credo che ci sia una crescita incredibile. Ultimamente però direi di Gaddini senza ombra di dubbio, cioè siamo passati dall'anno scorso totalmente problemi fisici tutto l'anno, a quest'anno la prima parte riconsolitandosi lì e poi piano piano crescendo in maniera notevole. Ora ecco, ultimamente mi sembra lui che ha fatto veramente un salto importante. Le chiedo un'ultima cosa, mister, i play-off andrebbero bene in qualsiasi posizione o adesso, vista la classifica, l'obiettivo diventa un pochino più ambizioso? Me lo dicevo dentro di me in questi giorni. Forse la bellezza è anche questa. Fino a un mese fa, se ci dicevano arrivi decimo, firmavamo con i comiti. Ora magari diciamo decimo, perché decimo? Ma vediamo se andiamo qui su, ma credo sia la bellezza, lo stimolo ci vuole. Poi magari non entri nemmeno le play-off, però lo scopo sicuramente è quello di fare più punti possibili per poter arrivarci nella posizione più alta possibile. Poi la speranza e volerlo fare e la realtà magari non corrispondano, però te devi partire sempre da andare alla ricerca di massimo.